Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar in cui parliamo sulle soluzioni che sono disponibili da casa di ANSYS per fare diversi tipi di studi per pacche batterie con un focus speciale sulla gestione termica delle batterie. Io sono Pedro Nesab e mi occupo della parte tecnica di BrightTech, siamo un channel partner di ANSYS in Italia e il mio focus compre l'analisi multifisica e elettrotermica sui sistemi elettronici, elettromagnetici, elettronico di potenza e propulsione elettrica. Due parole sul ANSYS. ANSYS è una piattaforma che ci dà la possibilità di fare studi numerici considerando tutte le fisiche di base che sono fisiche di termofluido dinamica, analisi e studi struttuali e meccanici elettromagnetici. E poi grazie a una piattaforma multifisica che è stata sviluppata da ANSYS, questi strumenti dedicati per qualsiasi di fisiche possono condividere dati in maniera automatica per lanciare e fare studi multifisica e accoppiata. Alla fine abbiamo in disposizione una soluzione per un sistema completo, ad esempio quando parliamo di un veicolo elettrico, dentro questo sistema ci sono varie componenti come pacco batterie, motori elettrici, un sistema di elettronica di potenza. E tutti questi componenti assieme creano il nostro sistema. In ANSYS ora è disponibile una soluzione in cui possiamo creare un modello per tutte le componenti e collegando questi modelli assieme abbiamo un modello del sistema completo. ANSYS è un channel partner di ANSYS in Italia che fornisce tutte le licenze e soluzioni che sono disponibili da ANSYS, che compre tutte le fisiche di base. E inoltre noi offriamo anche servizi per fare calcoli di ottimizzazione e sensibilità. Inoltre forniamo anche servizi di consulenza e progettazione a conto terzi e per chi ha bisogno di un risorso di calcolo più potente, anche un servizio di calcolo sul cloud, forniamo anche sia hardware che servizi di calcolo sul cloud. Ma il nostro obiettivo di oggi è un pacco di batterie. Vorremmo vedere cosa c'è in disposizione da ANSYS e che studi possiamo fare per un pacco batterie, per un sistema di alimentazione di energia elettrica. Prima comincerò con una definizione per cosa intendiamo di un pacco batterie e cose sono le cose che sono importanti quando vorremmo lanciare un studio, un'analisi per un pacco batterie. Batterie sono, batterie elettriche sono prodotti elettrochimici e considerando un materiale di base, particelli, poi elettridi, creano una cella. Le celle poi sono collegate sia in serie che in parallelo per creare un pacco batterie, nel quale abbiamo bisogno di un sistema di raffreddimento per estrarre le perdite sia omici che chimiche di tutto il sistema. Una modellazione di un pacco batterie comincerà a creare un modello matematico nella parte elettrochimico, poi creare un modello per le celle, collegando un modello della celle possiamo avere il modello di pacco batterie e poi lanciare simulazioni come analisi termofolida dinamica per estimare la distribuzione della temperatura nell'opacco batterie, possiamo fare analisi elettrochimico per trovare la distribuzione di perdite sia omici che elettrici. Tutti questi sono tipologie di studi che possiamo fare su un pacco batterie. Vediamo più avanti gli esempi di questi tipi di simulazioni che stiamo parlando. Nella fase finale, il nostro pacco batterie è un componente di un sistema completo e quando parliamo della prestazione di un pacco batterie nell'un sistema, non è che abbiamo già tutte le condizioni al contorno, dovremmo collegare il modello che abbiamo per pacco batterie a altri componenti su cui il pacco batterie in realtà è stata collegata e sono altri componenti che definiscono il condizioni al contorno. Allora, abbiamo bisogno di un'analisi su un sistema completo. Allora, queste sono tipologie di studi e modellazioni che possiamo avere per un pacco batterie, un sistema che comprende un pacco batterie. Ma ANSYS, cosa c'è da ANSYS, cosa offre ANSYS per creare un modello per un pacco batterie e che tipo di simulazione che possiamo fare. Le soluzioni che sono disponibili da ANSYS possono essere divisi a quattro categorie. Dal livello componentistico, ANSYS ci dà la possibilità di creare un modello matematico per una singola cella, una pilla. Considerando i materiali di base, particelli, elettrodi, eccetera, possiamo creare un modello base di una singola cella. Poi, collegando in serie o parallelo i modelli di una singola cella, possiamo creare il modello di pacco batterie completo. E stiamo parlando di un strumento. Tutte queste modellazioni e simulazioni sono disponibili in ANSYS Fluent. che è un strumento dedicato per l'analisi CFD Computational Fluid Dynamics, che fa l'analisi termofluido dinamica. Allora, per quanto riguarda, siccome stiamo parlando di Fluent, possiamo considerare contemporaneamente il sistema di raffreddamento. Allora, come anche vediamo prima avanti, nell'altro slide, già nel Fluent, possiamo cominciare dal materiale di base di un singolo cella, fino all'analisi elettrochimico e termico di un pacco batterie finale. La seconda categoria di soluzioni che sono disponibili è un modello matematico di pacco batterie che noi possiamo creare automaticamente grazie a soluzioni che sono disponibili in Fluent. Per che cosa serve? Prima, cos'è un modello matematico di ordine ridotto? Un modello matematico di ordine ridotto è un modello matematico che ci permette di estimare gli stessi risultati del nostro sistema, ma molto più veloce e molto più facile. Siccome è chiaro da questi due video, un'analisi CFD, che è un'analisi completa e numerica, ci vuole 5 ore di simulazione con 6 processori, ma invece un modello a ordine ridotto fa la stessa simulazione in mezz'oretta con un singolo processore. Allora, cosa che fa il modello a ordine ridotto? Ci aiuta con accelerazione di simulazione. Come si fa? È uno dei obiettivi di questo webinar e vediamo più avanti come possiamo creare un modello a ordine ridotto. Ma un'altra domanda che viene chiesto è per che cosa serve, perché abbiamo bisogno di un modello a ordine ridotto, che sarebbe la terza categoria di soluzioni che sono disponibili da ANSYS. In cui, quando vorremmo utilizzare il modello di pacco batterie dentro un sistema, ad esempio, il nostro obiettivo è, mi spiego un po' di più in dettaglio, cosa fa, o il problema, cosa succede se il conducente fa accelerazione per 10 secondi? E cosa è la temperatura, come cambia la temperatura di pacco batterie? In questo caso abbiamo bisogno di un modello di tutti i componenti che sono dentro il nostro sistema, che in questo caso è un veicolo elettrico. Abbiamo bisogno anche di un modello di pacco batterie. Questo modello può essere un modello numerico, un modello CFD o un modello a ordine ridotto. E da questo punto è che abbiamo bisogno di un modello a ordine ridotto, perché così possiamo accelerare la simulazione del sistema molto, molto, possiamo fare la stessa simulazione molto più veloce. Ma l'ultima categoria di soluzioni che sono disponibili da ANSI sono analisi meccanici e struttuali, che sono più per quanto riguarda l'affidibilità di un pacco batterie che abbiamo costruito, abbiamo sviluppato, abbiamo progettato, sotto conduzione sia ideale, lavoro in conduzione ideale, o anche durante un guasto, non so se un veicolo elettrico è stato trasciato. Tra queste quattro categorie di soluzioni che sono disponibili, il nostro focus di oggi sono i primi due. Vediamo come dovremmo creare un modello di un pacco batterie e che tipo di simulazioni possiamo lanciare, che tipo di studi che possiamo fare e alla fine vediamo in più dettaglio cos'è un modello a ordine ridotto e come si fa. Per esempio, cerco di presentare il modello che è disponibile in ANSI Fluent per pacco batterie. Prima di cominciare con i modelli che sono disponibili di ANSI, dovremmo capire meglio cos'è un pacco batterie in maniera più dettaglio, come funziona, dovremmo pensarci un attimo come funziona e come si tratta in un modello di un pacco batterie o un'uccella. Il punto molto positivo di ANSI è che tutte le modellazioni vengono fatti automaticamente e l'utente deve soltanto definire parametri molto generici, ad esempio la capacità di una cella, le dimensioni di celle, eccetera, che vediamo più avanti come si fa. Ma per capire meglio il modello che stiamo parlando, parliamo anche un po' sui modelli, sulla funzionalità di una cella. Una cella che è il componente principale di un pacco batterie è un prodotto elettrochimico. Allora, ci sono tre fisiche di base che dovremmo considerare per fare un modello di uncella. Uno dei vari approcci per creare un modello matematico per batterie elettriche è un approccio che usa anche ANSI, che si chiama Multiscale Multidimensional Model MSMDU, in cui i modelli vengono modellati, viene modellato un'cella in due livelli, e grazie a un approccio di Multiscale Multidimensional, due livelli di modello che creiamo per una cella vengono accoppiati. Il primo livello di modellazione di una cella è il modello elettrotermico, che dovremmo risolvere equazioni come equazioni di balanciamento di energia e equazioni di tensione, che ci dà la possibilità di valutare alla base di tempo la temperatura e tensione di una cella, alla base di tempo, considerando il corrente di scarico o carico e funzionalità di nostro sistema di raffreddamento. Il primo livello di modellazione, allora, è il modello elettrotermico. Nel secondo livello di modellazione abbiamo il modello elettrochimico, in cui la funzionalità e la prestazione elettrochimico di una cella vengono estimati. Anzi, ci dà la possibilità di considerare fra tre modelli per la parte elettrochimico. Un modello che si chiama Numan Sud 2D, è un modello fisicale, in cui ci chiede dati precisi del materiale di base di una cella, come particelli, diametro di particello, eccetera. Allora, è un modello molto complesso, ma molto preciso. Altrimenti, abbiamo in disposizione due modelli che sono più basati sulla pratica, sono modelli semipratici e modelli analitici di una singola cella. Uno, il modello circuito è equivalente, è un modello semipratico, Numan Teichman, che si chiama MTGK. Per questi due modelli, alla base di alcune informazioni che si trovano in data sheet di una cella, e alcune misure in pratica che possiamo fare molto semplici, AnziSFluent automaticamente fa il modello, o crea il modello elettrochimico della cella. Vediamo, abbiamo parlato di modellazione AnziSFluent, vediamo un po' dell'interfaccia che abbiamo anche in AnziSFluent, perché andiamo avanti così, è chiaro che è un po' difficile a capire che cosa intendo con modellazione da due livelli. Stiamo parlando come strumento di AnziSFluent. Dentro AnziSFluent è possibile oggi abilitare il modello per un pacco batterie. Abilitando il modello di pacco batterie, dovremmo scegliere il modello elettrochimico E poi dovremmo definire alcuni parametri generici, diciamo, della cella, che sono ad esempio la capacità della cella, la rata di carico e scarico della cella, eccetera. Poi, alla base di nostro scelto per il modello elettrochimico, vengono chiesti alcuni parametri, alla base di modello elettrochimico, vengono chiesti alcuni parametri che poi vengono utilizzati per estimare la prestazione elettrochimica della cella. Ma da qua è che noi come utente dovremmo definire questi parametri, ma sono parametri che un utente può essere difficile per un utente che trova questi parametri. Per questo motivo, Ansys Fluent ha creato un tool automatico che ci chiede alcuni parametri da data di celle e alcuni parametri sulle misure pratici e alla base di questi dati forniti fa un calcolo automatico di questi parametri. Allora, alla fine, l'utente non ha nessuna preoccupazione con la definizione di questi parametri. Vediamo, ad esempio, se consigliamo un modello N, Neumann-Tideman, di un pacco batterie, ci basta definire e fornire dati come la risposta di tensione alla base di corrente di carico e scarico per varie conduzioni o stato di carico delle celle e alla base di queste curvi, che in questi dati possiamo trovare anche dati della cella o anche possiamo fare calcoli o misure in pratica, Ansys Fluent fa un calcolo di tutti i parametri che serve o per un modello alla base di circuito equivalente, abbiamo bisogno di una test pratica, ad esempio fare un carico o scarico con un impulso, così, e fornendo i dati della tensione e corrente nel questo tipo di misure pratici, Ansys Fluent fa un calcolo automaticamente di parametri che serve per completare il modello elettrochimico della cella. Allora, vediamo un esempio. Alla fine, cosa che noi come utente dovremmo fare è abilitare il modello elettro, il modello del pacco batterie, dovremmo definire i curvi che sono richiesti, come la risposta di tensione, la base di corrente di carico o scarico in varie condizioni di carico, SOC o State of Charge, e automaticamente anche dovremmo fornire dati generici come la capacità e la data di corrente di carico e scarico della cella e automaticamente Ansys Fluent fa tutti i calcoli che abbiamo bisogno per completare il modello a due livelli, multi-dimension, multi-scale model, di quella singola cella. Avendo il modello del singola cella possiamo lanciare, definire le conduzioni di contorno, ad esempio possiamo definire la potenza di carico o scarico e alla base di quella conduzione di contorno, che include anche la temperatura iniziale, che è una temperatura ambientale, eccetera. Possiamo valutare alla base di tempo la tensione della cella, State of Charge e temperatura. Fin qua abbiamo completato la modellazione di un singola cella, poi un pacco batterie sarebbe la stessa celle che sono collegate in serie o parallelo. Ad esempio, se consideriamo un pacco batterie in cui ci sono un pack di tre celle che sono collegate in serie, nella stessa finestra, nella stessa interfaccia, con la stessa modellazione che abbiamo fatto, definiamo quale sono le celle, quale sono l'elettro positivo e l'elettro negativo, quale sono l'elettro positivo del pacco batterie, quale è l'elettro negativo del pacco batterie, e sarebbe sufficiente per completare il modello del pacco batterie. Di nuovo, considerando la conduzione di contorno per pacco batterie, ad esempio la corrente di scarico, carico o la potenza di carico o scarico, e la temperatura ambientale, e la temperatura iniziale, nel frattempo, alla base di tempo, possiamo valutare la distribuzione di perdite ohmici, perdite totale, che include sia perdite ohmici che perdite chimiche, a causa di reazione elettrochimico, e la temperatura, che sono alcuni dati di uscita che cerchiamo, anche l'attenzione di cella e state of charge, di pacco batterie, eccetera. Ma siccome stiamo parlando di Fluent come strumento, nel quale stiamo facendo la modellazione di pacco batterie, possiamo utilizzare anche la possibilità di analisi computational flow dynamics, o CFD, o analisi CFD, che ci permette di considerare sia pacche batterie più complesse, con anche con anche sistema di raffreddamento più dedicato e più complesso. Allora abbiamo tutte le cose che si servono per creare un modello completo di un pacco batterie, considerando il campo elettrico, chimico e termico del pacco batterie, e poi il sistema di raffreddamento. Un altro tipo di simulazione che possono essere utili per pacco batterie sarebbe la simulazione o studi sulla finibilità di un pacco batterie. Ad esempio, se va sotto un cortocircuito il nostro pacco batterie cosa succede? Se il cortocircuito è esterno o è interno, ad esempio questo è un cortocircuito esterno a causa di questa penna, può creare un cortocircuito interno di un singolo a cella, giusto? Ma, scusa, questo può essere anche a causa di un incidente. Stiamo vedendo che grazie alla funzionalità che abbiamo da ANSYS, anche sotto questa condizione non ideale, per esempio per un singolo a cella è stata successa un cortocircuito interno, ancora possiamo valutare la funzionalità e le prestazioni del nostro pacco batterie, possiamo valutare il corrente di pacco batterie, la tensione, le perdite, tutti quanti. Perché? Tutti questi sono disponibili perché stiamo parlando di analisi numerici, di CFD che quasi non c'è limita. Ma il secondo obiettivo di webinar di oggi era sul modello a ordine ridotto. Comincerò a spiegare perché abbiamo bisogno di un modello a ordine ridotto. Prima di creare un modello a ordine ridotto, abbiamo creato il modello per il nostro pacco batterie in Fluent, che è un modello, che è un strumento che fa analisi CFD, Computational Fluent Dynamics, che è un'analisi numerico. Tutte le tipi di analisi numerici, sia CFD che FEM che più altro, sono tipologie di simulazione e analisi e studi che sono costusi, da punto di vista sia di tempo di simulazione che anche risorse di calcolo che abbiamo bisogno. Come abbiamo visto prima, a volte abbiamo un sistema che ha qualche dato di input, ad esempio abbiamo un corrente di carico o un corrente di scarico e cerchiamo di capire come cambia la temperatura alla base di tempo sotto un condizione di contorno, se cambia il carico elettrico del pacco batterie. Considerando il modello completo numerico di nostro sistema per fare una simulazione di nostro componente, per fare simulazione di un sistema completo, sarebbe molto costoso da punto di vista di tempo di simulazione e risorse di calcolo necessario. È da quel tempo che, con l'aiuto di un algoritmo matematico, possiamo creare un modello a ordine raddotto per semplificare, diciamo, creare un modello matematico, non numerico stavolta. Il nostro sistema ci aiuta a risolvere equazioni più veloce e con meno risorse di calcolo necessario. Come si fa? Per tutte le componenti abbiamo alcuni dati di input e alcuni dati di output, ad esempio per un pacco batterie abbiamo corrente di scarico. La temperatura ambientale, eccetera, come dati di input. Ma invece stiamo cercando della perdita nel frattempo, alla base di tempo, scusa. Della temperatura alla base di tempo, eccetera. Tutti i dati di input hanno un effetto sul dati di output o da un altro punto di vista abbiamo, per tutti i dati di input abbiamo una risposta. Lanciando alcune analisi numerici con GFD, FEM, eccetera, possiamo trovare o estimare queste risposte. E poi, con l'aiuto di un algoritmo matematico, possiamo fare un fitting di tutte le risposte a dati di input. E così creiamo il modello a ordine ridotto che ci chiede dati di input per estimare dati di input. è un modello matematico e il tempo che abbiamo bisogno per lanciare una simulazione con un modello a ordine ridotto è quasi per fare qualche moltiplica e divisione, somma, eccetera. è pochissimo. Dipende certamente sul numero di dati di input, numero di dati di output e la precisione che cercherà. Vediamo un esempio di un modello a ordine ridotto. Un pacco batterie che abbiamo visto anche prima, nel quale sono collegati 16 celle in parallelo, diciamo, ha bisogno di 3 milioni di mesh per fare un'analisi GFD. Questo vuol dire che, considerando un singolo CPU, abbiamo bisogno di due ore di simulazione per completare l'analisi GFD, che è un'analisi numerico e preciso come riferimento. Creando un tipo di modello a ordine ridotto, che si chiama in questo caso LTI, che significa Linear Time Invariance Resist Order Model, è un tipo di modello a ordine ridotto, la mia intenzione di oggi non è spiegare questi modelli, fa la stessa simulazione per due secondi. Confrontando i risultati che viene da analisi GFD o analisi matematica, diciamo, con l'aiuto di modello a ordine ridotto, stiamo vedendo che i risultati sono perfettamente coincidi e allora il modello di ordine ridotto ha la precisione sufficiente che abbiamo bisogno per utilizzarlo in un'analisi o considerarlo in un'analisi di un sistema. Vediamo anche, da punto di vista grafico, per la stessa pacco batterie, ma stavolta con un altro tipo di modello a ordine ridotto, che in questo caso si chiama Singular Value Decomposition, se vedi, stiamo vedendo che i risultati sono precisi. Per concludere il mio discorso, abbiamo visto che quando parliamo di un pacco batterie che sono prodotti elettro, chimico e termico, sono già prodotti multifisiche. Grazie a ANSYS abbiamo una soluzione per creare un modello, considerando il materiale di base, fino a il modello completo di pacco batterie, che ci dà la possibilità di lanciare simulazioni a diversi tipi per valutare la prestazione del nostro pacco batterie e anche il suo sistema di raffreddamento. E poi abbiamo visto che, da quando abbiamo bisogno di un modello più veloce e meno complesso del nostro pacco batterie, possiamo affidarci sui modelli a ordine ridotto, che ancora Fluent lo fa automaticamente e soltanto ci dà i risultati. Quindi, come utente, noi dovremmo soltanto definire parametri di input, parametri di output che cerchiamo e intervallo che cambia un parametro di input. Concludo così la presentazione di questo webinar. Vi ringrazio per la vostra attenzione e comprensione. Ania, sono disponibili alcune minuti, se abbiamo tempo. No, non abbiamo. Sì, sì, abbiamo tempo per le domande, se ci sono.